Ciao a tutti piccoli cuccioli di coccodrillo e benvenuti sul mio canale didattico Diaco ti spiego nella sezione della matematica. Con questo video cominceremo una nuova playlist chiamata frazioni algebriche. In questo primo video vedremo che cosa sono le frazioni algebriche e soprattutto che cos'è la condizione di esistenza che noi chiameremo CIE. Per poter affrontare la lezione dovrai conoscere assolutamente le scomposizioni. Se non le conosci c'è una playlist dedicata al mio canale che ti consiglio di andare a guardare. Vediamo se capisci qualcosa va! Cominciamo questa nostra prima lezione ed entriamo nel mondo delle frazioni algebriche. Non sarà una playlist troppo lunga quindi vedrete che ce la caveremo con 4, 5 e massimo 6 video. Non è un argomento troppo complicato se conoscete però benissimo le scomposizioni. Per capire cosa sono le frazioni algebriche prendiamo ad esempio questi tre esempi. Se vi dico che questa è una frazione algebrica, questa è una frazione algebrica mentre questa non lo è, che cosa vi viene in mente? L'unica differenza che c'è fra di loro è il fatto, vedete, che la seconda al denominatore non presenta la lettera, quindi non presenta né la x né la y né qualsiasi altra lettera che vogliamo utilizzare. Una frazione algebrica è quindi una qualsiasi frazione che presenta una lettera al denominatore. Cerchiamo di capire anche perché la seconda non è una frazione algebrica. Vedete, se io semplicemente divido il 6 e lo porto sotto al primo termine e sotto al secondo, vedete che ottengo 3x fratto 6 meno 2 fratto 6, ovvero ottengo un mezzo x meno un terzo. E quello che cos'è? Non è una frazione algebrica ma è semplicemente un polinomio. Ora guardiamo un secondo la differenza tra il primo e il terzo caso. Nel primo caso non c'è la lettera al numeratore, nel secondo caso invece c'è perché abbiamo la x. In questo caso non è importante se al numeratore abbiamo la lettera oppure no, purché al denominatore sia presente un'incognita, un parametro o chiamatelo come volete, una lettera qualsiasi. Visto brevemente che cosa sono le frazioni algebriche, cerchiamo di capire una cosa fondamentale, cioè che cos'è la condizione di esistenza. Per capire molto bene che cos'è la condizione di esistenza, facciamo un esempio molto facile. Abbiamo detto che la frazione algebrica è una frazione che presenta al denominatore un'incognita. La domanda quindi che mi devo porre è, ma qual è il valore di quell'incognita? È molto semplice. Il valore di quell'incognita è qualsiasi valore io decido di assegnargli. Se per esempio decido che quella x vale 1, che cosa succederà alla mia frazione algebrica? Diventerà 1 più 3 fratto 1 più 1, ovvero quella frazione algebrica assumerà il valore di 4 mezzi, cioè di 2. Se decido di assegnare il valore x uguale 0, che cosa diventerà quella frazione? 0 più 3 fratto 0 più 1, ovvero 3 fratto 1, cioè 3. Se decido di assegnare il valore x uguale meno 1, che cosa succede a quella frazione? Diventa meno 1 più 3 fratto meno 1 più 1, ovvero 2 fratto 0. E questa cosa quanto fa? Mi raccomando, ragazzi, non mi dite che fa 2, perché non fa 2. Non mi dite che fa 0. Quella cosa fa impossibile. Perché è impossibile? Perché le frazioni con 0 al denominatore sono frazioni che non esistono. Cosa devo fare quindi? Devo tutelarmi dalla possibilità che al denominatore io abbia il valore 0. Quindi che cosa devo dire? Che non posso proprio prendere tutti i valori della x possibili e immaginabili, ma li posso prendere tutti tranne il valore meno 1, in questo caso, che è il valore che rende 0 il denominatore. Questa qui si chiama condizione di esistenza. Che cos'è quindi la condizione di esistenza? È l'insieme dei numeri che non posso accettare perché rendono 0 il denominatore. Questa condizione di esistenza si scrive in questo modo, cioè li accetto tutti tranne il valore che devo scartare, oppure posso scrivere direttamente x diverso da meno 1. Nel mio caso x perché al denominatore c'è la x. Questa condizione di esistenza va fatta per ogni fattore presente al denominatore. Vediamo meglio quest'ultimo concetto. Supponiamo quindi di avere una frazione algebrica di questo tipo. Che cosa notate subito? Che al denominatore c'è una moltiplicazione. Mi raccomando, resistete alla tentazione di fare la moltiplicazione. Fare questa cosa non serve assolutamente a nulla. La cosa che noi prediligiamo, cioè la cosa che ci piace di più, è avere fattori moltiplicati al denominatore. Che vuol dire fattori moltiplicati? Vuol dire che io ho due cose, che sono nel mio caso a e a meno 1, che sono moltiplicate tra di loro. Questa è la condizione migliore che posso avere. E se non ho quella condizione, quella è la condizione che devo cercare di ottenere. Quindi devo giungere a quel risultato. A questo punto, vedete, abbiamo detto che abbiamo fattore 1 e il fattore 2. La condizione di esistenza deve essere fatta per ogni fattore presente al denominatore. Quali saranno le mie cie? Quindi prenderò il primo fattore e lo porrò diverso da 0. Prenderò il secondo fattore e porrò anche lui diverso da 0. Questo rimane così com'è e mi dà a diverso da 0. Questo mi dà ovviamente a diverso da 1, cioè qual è il numero che messo al posto della a mi fa diventare quella roba 0? 1, ovviamente. Questa qui non è nient'altro che un'equazione di primo grado, quindi mi basta mettere meno 1 dall'altra parte e ottenere il valore 1. La mia condizione di esistenza è quindi a diverso da 0 e a diverso da 1, cioè potrò prendere per la a tutti i valori possibili immaginabili, ma non potrò prendere 0 e 1. Possiamo scrivere questa condizione anche per ogni a appartenente reali tranne 0 e 1. Ora ragazzi, attenzione massima! Ci ho messo tre punti esclamativi e se non vi basta ci ho metto pure il quarto e il quinto. Quindi quello che vi sto per dire lo dovete considerare come fosse la Bibbia. Se io scrivo una frazione algebrica di questo tipo, non mi dite che questo è un fattore e questo è un fattore, quindi non vi venga in mente di scrivermi questa cosa, perché altrimenti ci vediamo a settembre, anzi vi vedete a settembre con i vostri professori. È chiaro ragazzi? Quelli non sono fattori. Perché non lo sono? Perché non sono moltiplicati tra di loro. Cosa devo fare quindi? Devo renderli, se è possibile, un prodotto di fattori. E chi è che mi fa scrivere un polinomio come un prodotto di fattori? La scomposizione. Cosa devo fare quindi? Il numeratore lo lascio così com'è perché non mi interessa e faccio in quel caso il raccoglimento totale barra parziale, perché li coincidono. Quindi faccio a meno 5. A questo punto e solo a questo punto questi sono diventati due bellissimi fattori, perché sono moltiplicati tra di loro. Qua in mezzo c'è il per, quindi che cosa posso scrivere nella mia condizione di esistenza? Posso scrivere a diverso da 0 e a meno 5 diverso da 0, che mi dà come soluzione a diverso da 5. La mia condizione di esistenza è quindi per ogni x appartenente reali escluso 0 e 5. Mi raccomando ragazzi, se non vi bastasse, ecco qua nato i tre punti esclamativi. Se fate questo errore ragazzi è brutta brutta la storia, ma brutta. Andiamo avanti. Scriviamo la condizione di esistenza di questa frazione algebrica. Quindi la guardo un secondo e mi dico, eh, lì non ci sono cose da scomporre perché non c'è un polinomio. Perfetto, quindi scrivo direttamente la condizione di esistenza. Ora, vi potrebbe venire in mente di dire che quello è un fattore soltanto. Eh, no. Cioè sì, ma no. Nel senso che quello è un prodotto di tre fattori, perché noi consideriamo 2, consideriamo x e consideriamo y alla seconda separatamente. Ora, ragazzi, quando abbiamo a che fare con un numero non c'è bisogno di scrivere 2 diverso da 0, perché è ovvio che il 2 è diverso da 0, quindi non c'è bisogno di considerarlo. Potreste però fare una cosa, considerare il fattore 1 e il fattore 2 insieme e quindi scrivere, per esempio, 2x diverso da 0. In quel caso, in ogni caso, il 2 non conta, perché se io divido per 2 ottengo comunque x diverso da 0. L'altra condizione di esistenza sarà y alla seconda diverso da 0. Per il momento, il fatto che questo termine sia la seconda, la terza, piuttosto che la quarta, la quinta, la diciottesima, la centotrentanovesima, non ci interessa. Semplicemente lo togliamo e scriviamo x diverso da 0. In realtà, attenzione, l'operazione che faccio non è toglierlo, però ragionate così, è come se di quelli ne avessi due. Quindi scrivo 2 volte y diverso da 0. Non c'è bisogno, ovviamente, di scriverlo 2 volte. La mia condizione di esistenza sarà quindi x diverso da 0 e y diverso da 0. Questo stesso concetto, ragazzi, me lo posso portare se vedo una frazione algebrica di questo tipo. Mi raccomando, resistete alla tentazione di fare il cubo. Non serve a niente fare il cubo sotto, piuttosto che il quadrato, piuttosto che la somma per differenza. Quello è già scomposto in fattori. Se voi lo scrivete come un polinomio con quattro termini, come la fate la condizione di esistenza? Avete trasformato un bellissimo fattore in una somma di quattro monomi. Qui non devo fare nessun passaggio, devo solo scrivere la condizione di esistenza. La mia condizione di esistenza sarà a più 3 alla terza diverso da 0. Per quello che abbiamo visto poco fa, il fatto che sia la terza non mi deve impensierire. Per il momento me lo tolgo, anche se non è un'operazione propriamente corretta, e scrivo a diverso da meno 3. Andiamo avanti con un altro esercizio tipico, tipico nel vostro errore, perché sbagliate sempre. Quindi state attenti a quello che avete davanti. La questione qui è spinosissima, perché avete y alla seconda più 1. Attenzione, quello non è y meno 1 per y più 1, che è la cosa che mi scrivete più spesso. Non scrivetelo così. Quello non è una somma per differenza. Per essere una somma per differenza, e dopo vedremo degli esercizi, lì in mezzo ci deve essere il meno. Il problema però è che quello, come si scompone quindi? È una somma, non posso fare y4 diverso da 0 e 1 diverso da 0. Quindi quello è per l'appunto non scomponibile. E allora mi trovo a dover scrivere che la mia condizione di esistenza è y4 più 1 diverso da 0. E come si risolve questa cosa? Io le equazioni di secondo grado non le ho ancora fatte. Adiè, ma che c'è stai a faffà? Ragionate un attimo su quello che avete davanti, come sempre. Avete la somma di due cose sicuramente positive. Quando è che quella roba è diversa da 0? Per qualsiasi valore della y ne vado a prendere, infatti, quella roba sarà sempre sommata al valore più 1, che comunque lo renderà diverso da 0. E siccome al quadrato, a maggior ragione, sarà sempre positivo. Questa roba qui ha come condizione di esistenza per ogni y appartenente ai reali, perché qualsiasi valore di y vado a mettere lì dentro, quella roba non sarà mai uguale a 0, ovvero sarà sempre diversa da 0. Altri esempi tipici come quello che hanno come condizione di esistenza per ogni x appartenente ai reali sono questi. Vedete, anche in questi casi, qui che cos'ho? La somma di due cose positive. Anche qui ho la somma di due cose sicuramente positive. Eppure qui ho la somma di due cose positive. Quindi, per tutti questi tre casi, la nostra condizione di esistenza sarà per ogni x, y, lettera, chiamatela come vi pare, appartenente ai reali. Bene, ragazzi, ormai siamo diventati formidabili. Spero che siate diventati formidabili, quindi sappiamo esattamente che cosa fare quando abbiamo a che fare con una frazione algebrica. Come prima cosa, dobbiamo scomporre i denominatori. Lì che cosa facciamo? Raccogliamo x alla seconda e otteniamo x alla seconda meno 4. Abbiamo concluso la nostra scomposizione manco per niente, perché x alla seconda meno 4 è una somma per differenza. Quindi abbiamo 32 fratto x alla seconda per x più 2 per x meno 2. A questo punto individuo i fattori, che sono 1, 2 e 3, perché sono moltiplicati tra di loro, la mia condizione di esistenza consiste nel porli tutte e tre diversi da zero. Quindi scriverò x alla seconda diverso da zero, x più 2 diverso da zero e x meno 2 diverso da zero. Questo mi dà ovviamente x diverso da meno 2, questo mi dà x diverso da 2. Attenzione, ragazzi, qui il fatto che c'è il quadrato non ci frega niente, quindi otterremo x diverso da zero. La nostra condizione di esistenza è quindi per ogni x appartenente reali tranne zero, meno 2 e 2. Facciamo ancora un altro esercizio. Dobbiamo effettuare la scomposizione di questo denominatore. Quello è chiaramente un trinomio speciale. Si scompone quindi trovando due numeri, la cui somma faccia meno 1 e il cui prodotto faccia meno 2. Questi due numeri sono ovviamente meno 2 e 1. Quindi con la frazione algebrica si scrive 1 fratto x meno 2 per x più 1. A questo punto quelli sono proprio i miei due fattori, li pongo diversi da zero. Quindi scriverò x meno 2 diverso da zero, x più 1 diverso da zero. Quindi x diverso da 2, x diverso da meno 1. Quindi scriverò per ogni x appartenente reali escluso meno 1 e 2. Bene ragazzi, con questa lezione abbiamo concluso. Spero che sia chiaro come si calcono le condizioni di esistenza. State attenti ai trabocchetti che vi ho posto. La condizione di esistenza è ovviamente fondamentale perché è l'anticamera per poter fare innanzitutto tutti gli esercizi sulle frazioni algebriche e poi per poter fare le equazioni fratte. Se non fate la condizione di esistenza, ragazzi, l'esercizio vale metà. Con questa lezione abbiamo concluso. Grazie per avermi seguito anche oggi. Alla prossima! Se pensi che i contenuti del mio canale possano farti uscire dalle paruti della tristezza, iscriviti. Oppure condividi se hai degli amici che sono desiderosi di una sufficienza. Lascia invece un commento se vuoi farmi trattare degli argomenti o vuoi suggerirmi degli esercizi da risolvere. Grazie, alla prossima lezione da Diego ti spiego!